A distanza di un anno esatto, la Peroregina si laurea campione d'Italia a calcio a 5 per la seconda volta consecutiva. Le calabresi hanno così bissato il successo ottenuto 12 mesi fa nelle finali nazionali delle associazioni sportive e sociali italiane. Un altro sigillo che si è aggiunto all'eccezionale stagione della squadra in rosa dello stretto, conclusasi con l'ingresso delle migliori 12 squadre italiane e l'accesso ai play-off. Una lotteria andata in scena nella cittadella dello sport di San Buceto, in provincia di Chieti, teatro in cui le calabresi non hanno lasciato neppure le briciole alle avversarie, vincendo tutti gli incontri. Stese una dietro l'altra Palermo-Trieste e Olimpia-Pescara, entusiasmante la finalissima contro le siciliane, una sfida chiusa con il risultato di 4 a 1 in favore delle Amaranto. Riconoscimenti personali al portiere Mendolia, premiata come miglior pipelè del torneo e alla Punta Politi, regina delle attaccanti nella competizione nazionale. Soddisfazioni per la Calabria-Asi sono arrivate anche nel calcio a 7 con lo scudetto messo in bacheca dal Fitness Sport Center che dopo aver brillantemente superato le fasi regionali è approdato alle finali nazionali, vincendo il titolo nonostante le tante assenze forzate. Decisivi calci di rigore nella finale contro i colleghi laziali.